Benvenuti ad una nuova puntata di direttamente su. Oggi ci troviamo a Genova e siamo in prossimità della sede dell'ARPAL, l'agenzia regionale all'interno della quale trova sede anche il centro funzionale meteorologico. Siamo qui per documentare una parte delle attività che l'ARPAL della regione Liguria svolge. In particolare concentreremo l'attenzione sull'attività del centro metro idrologico in una fase critica, ovvero quella dell'emissione di un allerta. Andremo a visitare le varie sale operative, dal centro funzionale alla sala stampa, sino al centro operativo dove si coordinano le attività dei meteorologi con quelli della protezione civile. Iniziamo il nostro percorso all'interno della sede dell'ARPAL della regione Liguria da quella che è la sala stampa e siamo insieme ad Elisabetta Trovatore che è dirigente del centro funzionale dell'ARPAL. Qui di solito noi siamo soliti vedere le conferenze stampe che avvengono in genere in concomitanza con eventi meteorologici particolarmente violenti o comunque che interessano il territorio. Qual è l'attività che si svolge generalmente qua? Questo è il momento della comunicazione che è un elemento fondamentale di tutto il processo in cui sia i rappresentanti politici che i tecnici descrivono la situazione e le azioni da intraprendere alla popolazione. Dietro tutto ciò c'è naturalmente un lavoro precedente di valutazione, di monitoraggio, di verifica, di controlli che portano proprio all'emanazione dei messaggi. Come vedete alle mie spalle abbiamo messo in evidenza proprio il sito Allerta Liguria che è un po' l'emblema di questo tema della comunicazione. Cioè in regione Liguria noi abbiamo da sempre puntato la regione in primis sulla comunicazione efficace e la diffusione dell'informazione alla popolazione in tempo reale. Questo è proprio un sito in cui durante le emergenze si trovano tutte le informazioni importanti. Come si arriva a diramare un'allerta meteo? Il processo di diramazione dell'allerta meteo è abbastanza complesso e comunque procedurato. L'elemento essenziale per la previsione è quello della modellistica numerica, atmosferica e idrologica. Cosa vuol dire? Sono due elementi diversi ma assolutamente importanti entrambi. Qui presso il centro funzionale abbiamo appunto dei tecnici esperti che gestiscono dei modelli ad alta risoluzione. Questi modelli sono di due classi. Da un lato ci sono i modelli atmosferici, quindi dei codici numerici che simulano l'atmosfera e l'andamento dei principali parametri. Naturalmente poi quando partiamo di allerta idrogeologica la cosa essenziale è la precipitazione. Oltre a questi modelli però noi gestiamo anche modelli che simulano gli effetti al suolo di queste piogge, in particolare i modelli idrologici. Quindi sono dei codici che vanno a simulare la risposta dei principali bacini dei corsi d'acqua liguri a questo tipo di piogge. L'analisi di tutti questi elementi, di questi modelli in varie configurazioni, porta delle valutazioni quantitative di criticità che poi si traducono in definitiva nel messaggio di allerta in codici colore che noi conosciamo tutti, il giallo, arancione, rossa. Quando c'è una variazione vuol dire che è cambiato qualcosa nella previsione o in corso d'opera si attesta che il fenomeno è di portata differente? Possono accadere naturalmente entrambe le cose. Noi abbiamo modelli che vengono aggiornati più di una volta al giorno. Quindi per esempio in corso d'allerta, in sala operativa di protezione civile, noi andiamo a verificare questi modelli non solo una volta al giorno ma più volte a intervalli prestabiliti. Può succedere che un modello meteorologico, un modello idrologico diano degli scenari diversi rispetto al previsto. In questo caso occorre aggiornare il messaggio di allerta. Oppure in corso di evento, nell'ambito dello stesso scenario, ci possono essere poi degli eventi specifici, locali. Allora noi questi li seguiamo col messaggio di monitoraggio che è un altro tipo di messaggio che non è più di previsione ma di analisi della situazione corrente a brevissimo termine in cui facciamo il quadro. Quindi tipicamente durante le allerte nel sito che alle mie spalle si apre una banda proprio dei dati in tempo reale dell'evento in atto dedicata a tutte le informazioni che seguono questo evento. Possiamo vederlo proprio dinanzi a noi. Il sito anche per aiutare chi ci sta seguendo anche da casa a leggere poi i dati. Perché il dato che balza subito agli occhi è la nostra regione suddivisa in queste cinque aree e connotata da un colore. Non basta però fermarsi al colore, bisogna andare a leggere anche la spiegazione del perché. Sì certamente, ora chiaramente oggi è una bella giornata dove è tutto verde, però i cittadini sanno bene che nelle situazioni critiche invece questa mappa può essere colorata con i colori che vediamo sotto in leggenda, quindi giallo, arancione e rossa. A lato abbiamo una tabella che identifica con dei check, con dei segni appunto di spunta quali sono i fenomeni interessati. Oggi, ripeto, è una giornata tranquilla e non c'è niente di particolare. Però cliccando su ogni lettera della mappa, le Ligure, si può andare poi all'informazione di dettaglio zona per zona. Lì, in caso di allerta, ci sono tutte le informazioni di interesse. In particolare vediamo che la regione Liguria ha scelto di definire le criticità addirittura ora per ora. Quindi noi abbiamo un flusso temporale scandito proprio a livello orario che fluisce per tre giornate, dalla giornata di oggi, quella di domani e quella di dopo domani. L'altra cosa interessante è il discorso che abbiamo due criticità. Le allerte in Liguria si danno o per una criticità per piogge, quindi idrogeologica, idraulica, oppure una criticità per neve. Quindi sono due fattispecie differenti. Ancora interessante la suddivisione poi nella tipologia di bacini. Nel caso dell'allerta idrologica, all'interno di ogni area di allertamento possono esserci criticità diverse per i piccoli, medi o grandi bacini. Faccio l'esempio di un'allerta per piogge diffuse e persistenti. Questa sicuramente andrà a incidere sui bacini più grandi e quindi saranno quelli colorati con un certo colore di criticità. Viceversa tipicamente i temporali sono fenomeni molto localizzati, molto repentini, anche rapidi. Questi in genere vanno a incidere sui bacini più piccoli e quindi la criticità si avrà sui rimi minori. L'allerta oraria è una novità introdotta da un tempo relativamente breve? Sì, sono pochi mesi che l'abbiamo introdotta, devo dire la verità, che siamo probabilmente gli unici in Italia averlo fatto. Questo un po' perché la Liguria, suo malgrado, è una terra molto colpita dai venti idrogeologici importanti e purtroppo anche da quelli meno prevedibili, quelli più repentini, più localizzati. Allora, per andare incontro alle esigenze di una risposta più efficace alle singole emergenze, ci siamo posti nella condizione di poter identificare la criticità scandendola addirittura ora per ora. Questo non vuol dire che uno deve stare rigorosamente a tenersi all'ora, al minuto. Dà però l'idea che in una certa giornata magari la criticità inizia nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, piuttosto che nella sera tardi. E questa è un'informazione per il sindaco molto importante. E voi come riuscite a determinare la fascia orare in cui l'evento sarà più critico rispetto diciamo ad una giornata in cui ci sarà una criticità di altro colore? Beh, questo lo vediamo grazie ai modelli. Questo appunto è un esempio, per esempio, di previsione di pioggia di uno dei nostri modelli. Vedete che c'è un video che scorre. I modelli danno le previsioni ogni tre ore. Noi abbiamo l'uscita di un modello e quindi l'evoluzione del campo, del parametro di interesse. Questo vuol dire che noi nell'arco di una giornata abbiamo diversi istanti di previsione che ci consentono di capire l'evoluzione di un fenomeno e quindi più o meno la fascia oraria in cui questo impatterà sul nostro territorio. Durante un'allerta siete operativi 24 ore su 24? Sì, noi siamo operativi 24 ore su 24 quando c'è un'allerta di qualunque colore, dal giallo all'arancione e al rosso. Nel caso del giallo, chiaramente si tratta del livello più basso e quindi meno impattante in linea di principio, abbiamo un regime di vigilanza, quindi un regime di operatività che garantisce il fatto di controllare che non ci sia il superamento di determinate soglie, nella pioggia, nel livello dei corsi d'acqua e così via. Nelle situazioni di allerta arancione e rossa ovviamente l'operatività è molto più spinta, tutta la sala operativa regionale è attivata con tutte le funzioni e noi siamo operativi 24 ore su 24. In quanti siete a determinare il colore dell'allerta e poi a monitorarlo? Dunque, il contingente diciamo di meteorologi e di idrologi è il seguente, i meteorologi più o meno sono una decina di persone, gli idrologi si assessano sui 7-8 unità, questo nel complesso, questo garantisce una turnazione delle persone, quindi di fatto durante l'allerta tipicamente c'è senz'altro sempre almeno un meteorologo e un idrologo, nelle allerte di un certo colore tipicamente ci sono due meteorologi e due idrologi. Ci siamo trasferite nella sala previsione, il centro funzionale, come vediamo si contraddistingue per la presenza di tanti monitor e di tanti computer, qua vengono osservati gli eventi? Sì, qui riusciamo sia a osservare gli eventi attraverso la nostra rete di monitoraggio, satellite, radar, tutti gli strumenti dedicati all'osservazione del tempo reale e poi consultiamo i modelli, quindi modelli di previsione che ci permettono invece di fare delle proiezioni in avanti, modelli sia meteorologici che idrologici come dicevo prima. Nello specifico in questo momento che cosa vediamo? Allora qui abbiamo per esempio su questo schermo il satellite, una delle possibili visualizzazioni, mappe, canali del satellite. Il satellite è uno strumento veramente potente, importante, consente al previsore di analizzare tutta una serie di caratteristiche dei sistemi nuvolosi, fondamentalmente è un occhio che guarda la Terra dall'alto e mettendo insieme una serie di canali, diversi canali, si possono analizzare appunto i vari aspetti dei corpi nuvolosi. In particolare consente di identificare al meteorologo esperto nubi più pericolose, tipo i comunonembi, piuttosto di distinguere naturalmente da nubi stratiformi, magari più innocue. Oggi vediamo la Liguria praticamente senza nuvole, come ne fate? Sì, 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 questo è un ciclo che parte dalla notte, in cui questo è il canale visibile, dove naturalmente di notte non si vede niente, poi pian piano si vede l'alba che arriva, una prima copertura nuvolosa sulla nostra regione e poi un cielo più sereno e sgombro. È bello poi osservare anche la presenza della neve su tutte le Alpi a un certo punto, proprio per evidenziare il fatto che naturalmente il satellite con un certo tipo di canale vede proprio i colori del bianco e quindi anche la neve, che naturalmente deve essere distinta dalle nuvole. Si vede benissimo appunto su tutta la catena alpina. La previsione è fino a quanto si può fare? Si parla di solito di entro i tre giorni per avere una previsione più o meno che possa essere veritiera? Sì, naturalmente questo dipende dalla risoluzione, dal dettaglio, dalla localizzazione che si vuole avere. Esistono infatti diversi tipi di modelli, man mano a più alta risoluzione a seconda della porzione di territorio e del tipo di fenomeno che si vuole andare ad analizzare. Mi spiego meglio, a scala continentale è possibile fare previsioni di massima anche a sette giorni, anche a dieci giorni. Queste previsioni però non saranno specifiche ora per ora, località per località riguardo allo stato del cielo, la temperatura, il vento e così via. Saranno previsioni di larga scala, quindi con un dettaglio molto grossolano. Il nostro compito invece è, nello specifico per la protezione civile della regione Liguria, fornire delle previsioni possibilmente quantitative di fenomeni a scala molto locale perché stiamo parlando della Liguria, anzi di zone in cui è divisa la Liguria. Quindi dal punto di vista meteorologico è una scala molto piccola. Allora in questo caso avere una previsione attendibile di certi parametri vuol dire fermarsi senz'altro ai tre giorni, non andare oltre. E questo è dovuto al fatto, a due fatti fondamentali. Il primo è che comunque la modellistica che viene utilizzata da chiunque e in qualunque situazione è comunque una modellistica che simula l'atmosfera ma non è, non riproduce perfettamente l'atmosfera. Quindi man mano che si va avanti nel tempo ci sono degli errori. Ma la cosa interessante è ancora un'altra, cioè che è proprio l'atmosfera stessa che è un fenomeno cosiddetto caotico. Cioè è un sistema caotico che, data una certa condizione iniziale, può evolvere in maniera anche molto diversa e man mano che ci si allontana dall'istante iniziale. Quindi è un sistema complesso, non lineare, è un sistema che quindi di per sé ha una sua impredicibilità. La suddivisione della nostra regione in cinque aree, contrassegnate da una lettera, da cosa viene determinata? Com'è stata delimitata? Come sono state delimitate queste cinque aree? Queste aree sono state delimitate nel 2005, quando la Liguria ha attivato il proprio centro funzionale secondo una procedura che è stata condivisa col Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Sostanzialmente nel sistema italiano ogni regione ha dovuto identificare in accordo col Dipartimento stesso di Roma delle aree di allertamento, più o meno dell'ordine di grandezza come dimensione di quelle che abbiamo in Liguria. I criteri sono stati fondamentalmente climatologici e naturalmente legati anche alla suddivisione in bacini. Non bisogna mai ovviamente suddividere un bacino, ma mantenere l'integrità. Quella che vediamo alle nostre spalle, invece, è la nostra cartina, contrassegnata da punti. Che sono? Sono i siti di misura della rete Omel, che direi che è una delle più fite del territorio italiano. In che senso? Nel senso che il territorio Liguria è un territorio molto complesso, con un'orografia complessa, con piccole valli, piccolissimi corsi d'acqua. Quindi si è reso necessario nel corso degli anni aumentare man mano i punti di misura, proprio per garantire una copertura adeguata del territorio. Ogni punto di misura che cosa rappresenta? Ogni pallino rappresenta un sito dove c'è una centralina che misura diversi parametri. Nel caso specifico qua abbiamo la temperatura. E già c'è un colore che indica, secondo questa scala cromatica, dà un'idea dei valori di temperatura di cui stiamo parlando oggi. Quindi si assestano sulla scala dei verdi, e quindi tra i 12 e i 16 gradi. Poi, andando sul singolo pallino, si seleziona il sito e si vede l'andamento specifico della temperatura, in questo caso ogni mezz'ora. La massima, la minima e la temperatura media. Quindi è uno strumento molto potente, che tra l'altro è disponibile in rete. L'indirizzo è questo, omirl.regione.liguria.it. Anche solo digitando questa prima parte si va proprio nel sito e si possono esplorare i vari parametri. C'è anche la parte relativa ai livelli idrometrici, quindi questi sono i livelli dei corsi d'acqua sulla nostra regione monitorati. Anche qui, questo per esempio, si vede il livello nei giorni precedenti, c'è stato un innalzamento e poi non è più piovuto, e quindi un livello estremamente basso delle acque, tranquillo. Chiaramente nel corso delle allerte, questo è il dato che ci preoccupa, cioè succede spesso, che invece questo livello del corso d'acqua si alza fino a raggiungere le due soglie critiche, quella arancione e quella rossa. Il livello viene rilevato attraverso delle centraline? Sì, sì, anche questi sono dei siti di misura che sono proprio tipicamente altrosuoni, poi ci sono varie tecnologie, vanno proprio a misurare ogni quarto d'ora il livello del corso d'acqua. Quindi danno una misura in continuo e in tempo reale. Questa rete è veramente moderna, nel senso che abbiamo fatto in modo che i dati vengano trasmessi secondo due canali trasmissivi, quindi è molto solida la trasmissione, sia attraverso la radio che attraverso il sistema GPRS. L'altro aspetto che abbiamo curato sono le tempistiche, quindi noi riusciamo ad avere dati aggiornati in tempo reale veramente con dei ritardi di qualche minuto. Tutto questo è disponibile, ripeto, al cittadino, quindi a chiunque voglia esaminare e osservare questi dati. La scelta delle zone che sono state in qualche modo osservate attraverso queste centraline dipende anche dalla criticità delle zone stesse? Sì, la scelta dei siti dipende da tanti fattori, più che dalla criticità in primo luogo dalla significatività rispetto al territorio circostante. Esistono degli standard dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia che identificano i siti ideali come posizionamento, come altitudine, come esposizione, che consentono di avere una misura che sia significativa non solo di quel preciso punto, ma di un intero territorio circostante. Quindi la scelta è stata molto accurata. Per esempio nel caso del vento è una scelta molto critica, perché il vento è un parametro estremamente locale. E quindi se vogliamo avere invece un quadro che ci dia un'idea di come va il regime di vento più in generale, dobbiamo scegliere i siti con molta molta attenzione. Passiamo alla cartina successiva. Anche in questo caso vediamo delle linee di diverso colore che definiscono che cosa? Qui entriamo nel campo della modellistica, quindi in quella che è la previsione da parte dei modelli numerici. Ho voluto iniziare con una mappa che rappresenta tutta l'Europa. Qui vediamo l'Italia, per esempio, lo stivale dell'Italia, eccolo qua, è questo. E siamo sotto l'influsso, questo è il campo di pressione a livello del mare, i colori caldi rappresentano l'alta pressione. Quindi vuol dire che noi siamo sotto l'influsso in questo momento di un bel regime da nord e nord-ovest, con questo campo di alta pressione che ci protegge. Invece con i colori più freddi, vediamo in pieno oceano atlantico, sul nord atlantico, una depressione profonda che si sta avvicinando e quindi identifica una zona di bassa pressione, quindi una perturbazione. Questa è una tipica visualizzazione di un modello a grande scala. Noi abbiamo parecchi modelli che visualizziamo a scala, diciamo, partiamo da quelli a grande scala e poi andiamo a vedere quelli a più alta risoluzione per poi concentrarci sulla nostra regione. Quindi questo dal quadro generale, mentre per esempio il modello MOLOC, che è quello che usiamo noi ad alta risoluzione sulla Liguria, questa appunto è la Liguria, dà naturalmente una visione di dettaglio completamente diversa, molto più specifica. Questo per esempio è la visualizzazione del campo di vento in superficie, di vento a 10 metri. Quindi vediamo in questo caso che ci sono le barre del vento, quindi con un vento dal mare sulla parte di Levante, un vento invece da nord, un po' più intenso sul ponente. Questo è un altro esempio di modello, sempre, diciamo, zoomato sulla parte Ligure, che riguarda invece il mare. Questo è un modello meteomarino e in particolare ci interessa l'altezza media delle onde. I colori definiscono l'altezza delle onde? Sì, quindi vediamo anche qui, in una scala abbastanza intuitiva per agevolarne l'interpretazione proprio a livello qualitativo visivo, che naturalmente i colori più rossi indicano, diciamo, il pericolo in qualche modo e quindi altezze d'onde che superano i due metri. Man mano che ci avviciniamo invece alla costa abbiamo colori più tenui e quindi altezze d'onde minore. Poi naturalmente io vado avanti nel tempo e osservo l'evoluzione, diciamo, del moto ondoso. E come questi, tantissimi altri parametri possono essere, diciamo, consultati da qui alle successive 72 ore o 48 ore, quindi, diciamo, per i due o tre giorni successivi. Quando c'è un evento in atto, quindi, quando verosimilmente si deve poi provvedere a diramare un'allerta, voi osservate tutti questi modelli e poi in che fase della giornata, in qualche modo, ci sono degli aggiornamenti significativi che possono anche intervenire? Sicuramente esiste, ma questo è vero in tutta Italia, proprio per definizione del Dipartimento stesso, un momento che è la tarda mattinata, ora di pranzo, quindi tipicamente tra mezzogiorno e luna, in cui c'è un aggiornamento di quello che è il messaggio meteo, il messaggio di criticità, quindi stiamo parlando della vigilanza o dell'avviso meteo, del messaggio di criticità eventuale che ne consegue, in definitiva, poi, dell'allerta, se è il caso, naturalmente, di emettere un'allerta. Quindi tutto questo pacchetto di messaggi viene emesso tipicamente entro le ore 13. Certe volte si riesce prima, certe volte dopo, ma, insomma, la fascia oraria è questa qua. Detto questo, poi, durante le allerta, naturalmente, con la sala operativa presidiata e il territorio che è già attivato, diciamo, in preallarme, è possibile un aggiornamento dell'allerta e questo, in definitiva, in qualunque momento sia necessario. Il monitoraggio è un'altra tipologia di messaggio, è un monitoraggio che va a vedere quella che è la situazione in atto, non tanto una previsione. I messaggi di monitoraggio vengono emessi proprio in corso di evento, questo anche indipendentemente dall'allerta. Intendo dire che può succedere che non ci sia uno stato di allerta, ma che invece ci sia un evento in corso, tipicamente un temporale molto forte in un certo comune. Allora ci si attiva in reperibilità, sia noi che il personale di protezione civile, veniamo in sala operativa e mettiamo un messaggio di monitoraggio, la stessa protezione civile telefona, quindi va proprio per le vie brevi ai sindaci e ai territori interessati. La scelta di emanare un'allerta è autonoma, nel senso che vi appartiene autonomamente o c'è un raccordo anche col Dipartimento di Protezione Civile Nazionale? Dunque, la responsabilità dell'allerta è in capo alla regione, quindi è un fatto regionale. Ciò non toglie che nelle situazioni in cui si prefigura l'emissione di un'allerta, noi tipicamente ci sentiamo telefonicamente col Dipartimento, non solo. In genere ci sentiamo con le regioni limitrofe, quindi con i centri funzionali dell'ARPA Piemonte, dell'ARPA Toscana in particolare. Esiste anche la possibilità di aderire a una videoconferenza che viene fatta quotidianamente a livello nazionale, in cui appunto anche insieme all'aeronautica militare si fa il punto della situazione su tutto il territorio nazionale, noi possiamo dare il nostro contributo. Quindi diciamo in soldoni che in caso di rischio il contatto telefonico con Roma e con gli altri centri funzionali è una cosa che noi facciamo fondamentalmente costantemente. Raccolti tutti i vostri dati, voi li condividete chiaramente anche con la protezione civile che poi va a fare degli interventi sul territorio? Sì, devo dire che una delle peculiarità della Liguria, che forse non c'è in tutte le regioni, è il fatto che noi siamo tutti insieme, lavoriamo veramente in sinergia. Intendo dire, intanto a livello di centro funzionale, il che non è scontato, la parte meteo con la parte idrologica. Cioè quindi il previsore meteorologo e il previsore idrologo lavorano nella stessa struttura e si confrontano sempre condividendo tutta una serie di dati prima dell'emissione del messaggio. Questo è un valore aggiunto notevole. E poi i tecnici, che appunto siamo noi del centro funzionale, ci confrontiamo sempre con la protezione civile. Noi abitiamo diciamo nello stesso palazzo e normalmente quando siamo abbastanza a tiro con la nostra valutazione o loro vengono nei nostri uffici o noi ci richiamo in sala operativa, facciamo proprio un briefing, il quadro della situazione. Da questo quadro esce poi quella che è l'emanazione dell'allerta. Tutto questo avviene anche nella sala operativa, che è quella dove si trova la protezione civile quando ci sono degli eventi in corso. Sì, sì, noi in caso di allerta sostanzialmente ci trasferiamo in qualche modo in sala operativa nella cosiddetta SOR perché a questo punto il centro funzionale diventa una delle funzioni della sala operativa. Che cos'è la sala operativa? Il luogo dove si prendono le decisioni della gestione dell'emergenza. Viene coordinata dalla protezione civile regionale, ha una serie di figure che presidiano tutti i vari aspetti, la logistica, la sanità, le trasmissioni radio, il supporto ai comuni per le varie criticità che ci sono sul territorio e naturalmente anche la parte tecnica che in questo caso siamo noi con le nostre previsioni e il nostro monitoraggio. Tutto quello che abbiamo visto sin qui poi viene tradotto e portato nelle case anche attraverso Telepace grazie ai portavoce dell'ARPAL. Qui siamo con Andrea Lazzara che ha anche in qualche modo favorito questo incontro. Dove voi in qualche modo tenete i rapporti direttamente con i mezzi di comunicazione? Sì, l'ARPAL ha scelto questa linea comunicativa molto presente, diciamo così, rivolta sia ai media che direttamente ai cittadini niguri. Sì, quindi ovviamente in occasione delle allerte siamo presenti in caso di allerta gialla con continui aggiornamenti anche da remoto. Invece in caso di allerta arancione o rossa siamo presenti uno o tutti e due i rappresentanti, diciamo così, della comunicazione di ARPAL in sala operativa regionale proprio per poter fornire a tutti i colleghi, perché poi si tratta di colleghi, ma quindi anche ai cittadini, le informazioni del caso in tutta la giornata, in tutte quelle che sono le 24 ore, quindi anche durante le ore notturne. Poi è importante anche l'aspetto della comunicazione nei momenti, chiamiamoli di pace, perché il tema della meteorologia e comunque di quelle che sono le previsioni del tempo è molto sentito nella nostra regione. E così tramite il sito www.arpal.gov.it e tramite la pagina Facebook di ARPAL che in due anni ha raddoppiato il numero di persone che la seguono. Questo è sicuramente un dato importante. Forniamo aggiornamenti continui, quotidiani, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, con post al mattino, alla sera, con i video bollettini e con tutte le altre curiosità e informazioni che possono essere utili per la popolazione. Quindi i canali sono tanti, non solo quelli ufficiali, diciamo, i mezzi di informazione, ma anche i social network, insomma. E ovviamente è fondamentale comunque il ruolo dei media come Telepace per trasmettere quello che è il messaggio, che deve essere sempre quello di, come dire, un'attenzione in tempo reale, costante, dando le informazioni per quello che sono, per la descrizione di quella che è la situazione, per quello che è. E dunque è assolutamente importante il rapporto che proprio media come il vostro hanno con l'agenzia. Abbiamo toccato questo oggi un aspetto importante, forse anche quello che ci tocca più da vicino in caso di allerta meteo. Però diciamo, ARPAL non è soltanto previsioni meteorologiche. Come ricorda spesso anche il direttore generale, Carlo Emanuele Pepe, anche il numero del personale impiegato nel settore meteo è una parte, circa un 10%, ARPAL fa molto altro, è l'agenzia regionale per l'ambiente della Liguria. Dunque si parla di tante tematiche, dalle tematiche legate all'aria, all'acqua, all'impiantistica, è un organo tecnico importante, ha un ruolo dunque importante in tante situazioni, anche un compito di educazione ambientale. e questo è un tema sicuramente importante da approfondire. Quindi, insomma, l'attività dell'agenzia, ma basta vederlo anche nei servizi dei media, nei quotidiani, in tutte le volte che viene chiamata in causa, è l'agente ARPAL è presente a 365 gradi, appunto, per tutelare l'ambiente Ligure. Recentemente c'è stata la criticità anche dell'incendio a Cairo-Montenotte, anche in questo caso è stata importante sia l'informazione, sia il monitoraggio da parte di ARPAL. Tecnici presenti immediatamente sul posto, secondo le procedure del caso, e poi anche come agenzia abbiamo dato le informazioni su quello che erano i risultati dell'analisi da noi effettuate, sempre in sinergia con le altre istituzioni, quindi non soltanto con le pubbliche amministrazioni che operano sul territorio, ma ad esempio con l'ASL e con tutti coloro che in queste occasioni sono chiamati a intervenire. Per dare una dimensione, ARPAL in qualche modo monitora la situazione, per così dire, alla foccia dell'entella per quanto riguarda la purezza delle acque, così come i pollini che possono essere nell'aria, che possa essere un dato significativo anche per persone che hanno problemi di allergie. Eravamo venuti giusto a Telepace a parlare proprio in studio delle problematiche dei pollini, che tra l'altro ce ne siamo accorti particolarmente sentiti. Ecco, questo è un aspetto per esempio da sottolineare quanto è importante anche la comunicazione in tempo di pace, ad esempio con i social network. Nel periodo in cui il numero di pollini incrementa in maniera esponenziale, quindi è una sofferenza per tante persone, il post su Facebook che riporta la situazione, lo Stato, il tipo di pollini presenti nell'aria, ha un boom di contatti pazzesco. E quindi questo vuol dire che la gente vuole essere informata. E lo può fare, ripetiamo, su Facebook, ma anche sul sito dell'agenzia. Uno degli impegni sui quali vi state muovendo è proprio quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, a partire dai bambini, dai ragazzini, nelle scuole, ma insomma anche le persone che magari a volte si scontrano, no? Di fronte anche all'emissione di un allerta meteo, ci può essere l'ambulante che ha necessità di lavorare, ci può essere avere un'informazione il più corretta possibile, il più comprensibile possibile. Noi cerchiamo di spiegare, abbiamo fatto, facciamo anche molti incontri, lo abbiamo fatto già con un'associazione esempio di categoria per quello che riguarda i commercianti, spesso previsori, idrologi, e anche noi della comunicazione andiamo nelle scuole a cercare di raccontare tutto quello che Elisabetta Trovatore vi ha raccontato con dovizia di particolari, ma in maniera appropriata per il pubblico che riceve queste informazioni, proprio perché sappiamo l'importanza che questo argomento ha nella nostra terra, ma bisogna sapere anche che da buoni cittadini bisogna essere pronti a saper osservare la situazione e comportarsi di conseguenza. Anche non sottovalutare a volte l'allerta, perché alcune volte magari dinanzi all'allerta poi uno dice ma magari non piove, esco lo stesso o faccio quell'azione lo stesso. Diciamo valutarlo con cognizione di causa a seconda di quelle che sono le indicazioni che arrivano anche dalla stessa colorazione dell'allerta. Ben trovati e buona settimana a tutti da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal modificata e prolungata l'allerta meteo per neve in Liguria. Dunque il dettaglio comuni interni della zona A allerta gialla fino alla mezzanotte di oggi lunedì 5 febbraio. Zona B comuni interni allerta gialla fino alla mezzanotte di domani martedì 6 febbraio. Zone D ed E chiude la gialla alle 15 ma si trasforma in arancione fino alle 9 di domani martedì 6 febbraio per tornare nuovamente poi in gialla fino alla mezzanotte ovviamente di domani martedì a determinare queste condizioni del tempo un'ampia saccatura di natura polare che coinvolge l'Europa e parte del Mediterraneo. Il dettaglio oggi lunedì 5 febbraio coperto su tutta la regione con precipitazioni diffuse possibili rovesci al più moderati nevicate di intensità fino a moderata sui versanti padani possibili deboli nevicate nell'entroterra del Genovesato e del Savonese con quota neve a 2-300 metri o localmente più in basso venti tra moderati e forti dei quadranti settentrionali in rinforzo in serata mare molto mosso a ponente mosso levante temperature massime in diminuzione lungo la costa tra 6 e 11 gradi nelle zone interne tra 1 e 6 gradi domani martedì 6 febbraio fino alle prime ore del mattino ancora nevicate moderate lungo i versanti padani di ponente sulla Valle Scrivia deboli sull'entroterra del Savonese e il Genovesato 2-300 metri di quota neve altrove deboli pioggia asciutto a levante dal pomeriggio nuova intensificazione delle piogge e delle nevicate venti moderati settentrionali elevante forti sul centro ponente anche con raffiche fino a 70 km orari mare localmente molto mosso a ponente mosso altrove temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 4 e 9 gradi nell'interno tra meno 1 e 3 gradi massime in aumento lungo la costa tra 7 e 12 gradi nell'interno tra 1 e 6 gradi chiudiamo con dopo domani mercoledì 7 febbraio al mattino residui deboli precipitazioni anche nevose sui versanti padani in esaurimento a partire dal pomeriggio quando sono attese locali schiarite specie sul centro ponente venti dei quadranti settentrionali tra moderati e forti in attenuazione del pomeriggio mare inizialmente mosso in lieve calo a levante temperature minime stazionarie lungo la costa tra 5 e 9 gradi nelle zone interne tra 0 e 2 gradi massime in aumento lungo la costa tra 8 e 12 gradi nell'interno tra 3 e 6 gradi è tutto seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it sulla pagina facebook di Arpal a risentirci www.arpal.gov.it 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 www.arpal.gov.it